Noi aspettiamo il nostro presidente, uno perché è il nostro presidente, due perché è il centenario. Chi lo dà ormai come ufficiale, chi come il sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonon aspetta che gli venga comunicato formalmente. Ma in cuor suo ci spera il primo cittadino di avere ospite il capo dello Stato, Sergio Mattarella, il prossimo 4 novembre, quando la città e l'Italia intera celebreranno i 100 anni della vittoria. Noi ci contiamo i presidenti della Repubblica, ad ogni decennale sono stati presenti nella nostra città. Noi fin dall'inizio del nostro mandato abbiamo invitato l'allora presidente della Repubblica, abbiamo rinnovato ovviamente al presidente Mattarella l'invito qui a Vittorio Veneto per la chiusura del centenario. Siamo molto fiduciosi che possa avvenire la data, ovviamente la sceglierà il presidente, ma a noi qualsiasi data va bene. Centenario della Grande Guerra che qui è stato celebrato con mesi di eventi e una mobilitazione generale e non solo a Vittorio Veneto. La città e la sua storia sono tuttora presenti con due mostre fotografiche al Pentagono e all'Erminevi Club di Londra. I risultati che abbiamo ottenuto, confesso, e io sono ottimista di natura, non li avevo previsti. La mobilitazione soprattutto da parte della città è stata un'anime corale e basti vedere l'imbandieramento che è ancora presente nella nostra città e continuerà fino alla fine di queste commemorazioni del centenario. Ma quale messaggio si leverà il prossimo 4 novembre dalla città della Vittoria? Il sindaco Tonona non ha esitazioni. Direi quello che abbiamo messo in testa a tutte le commemorazioni del centenario è quando scoppia la pace. è un augurio che facciamo a noi stessi e a tutto il mondo.